18 anni dopo l'omicidio di Domenico Coutè, avvenuto il 25 gennaio del 2000, la polizia chiude il cerchio e notifica un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei fratelli Ergastolani, Giuseppe e Giovanni Minardi, ritenuti responsabili del delitto. L'ordinanza costituisce l'esito di un'attività investigativa portata avanti dalla squadra mobile di Messina, sotto la direzione della procura distrettuale della Repubblica, diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, attraverso il riscontro delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia che ha condotto ai Minardi, ritenuti responsabili di aver ordinato ed eseguito materialmente nel rione Giostra l'omicidio di Coutè, soggetto radicato negli ambienti del rione Giostra e legato da vincoli parentali diretti con Giuseppe Gatto, al tempo reggente della cosca mafiosa operante nel rione, nonché luogotenente del bossergastolano Luigi Galli, l'unico irriducibile dei vecchi capi di mafia di Messina a non intraprendere la collaborazione con la giustizia. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'omicidio risulterebbe essere stato eseguito materialmente da Giovanni Minardi su ordine del fratello Giuseppe, in conseguenza di pretese delle azioni che la vittima avrebbe reso alla polizia di Stato a carico di Stefano Marchese, esponente della criminalità organizzata legato a Giuseppe Minardi, oltre che da vincoli criminali da un rapporto di amicizia personale. Dichiarazioni relative all'omicidio del salumiere Giovanni Postorino, ucciso nel corso di una rapina commessa il 24 gennaio del 1994, dichiarazioni che avevano lo scopo di scagionare il proprio figlio, Antonino Natale Coutè, fermato nell'immediatezza del delitto e poi effettivamente rilasciato. In sostanza una vera e propria violazione, secondo i Minardi, del codice d'onore mafioso dell'omertà, che i due fratelli avevano allora mal digerito e punito con la morte. L'ordinanza di custodia è stata notificata a Giuseppe Minardi presso il carcere di Simona, mentre a Giovanni Minardi presso il carcere di Spoleto, case di reclusione dove i due si trovano ristretti.